Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo. Oggi rispondo ad un signore di Miami, Stati Uniti, che mi fa questa domanda. Dottore, come posso annullare il mio nervosismo, il mio stress? Sono sempre spessissimo stressato, litico con mia moglie, con i miei figli, con i miei colleghi, al lavoro. Io gli ho consigliato e consiglio anche a te, spassionatamente, che mi ascolti in questo momento, di scaricarti un audio MP3 molto potente e naturale, senza nessun effetto collaterale, dal titolo No Stress, molto controllo dei nervi, un vero e proprio capolavoro che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills, da due grandi artisti e l'ipnosi, vera e professionale con la V maiuscola, unica al mondo, il professore dottor Michelangeli Graia e la dottoressa Rina Brunini. Io ci ho messo un 30-40% perché da più di 12 anni mi ipnotizzo H24, anche adesso sono ipnotizzato, anche se non sembra né a te né ai sedicenti esperti di ipnosi. Perché lo faccio, perché non mi ruba tempo, non mi stressa, non mi impegna, non mi fa mettere gli auricolari ed è fantastico perché tu ti ricarichi sempre di energia positiva. Per quanto riguarda lo stress e il nervosismo, io ero la persona più stressata di questa terra perché cresciuto con un papà che perdeva la pazienza in un nanosecondo, sempre o spessissimo arrabbiato, non ti guardava mai in faccia, eccetera, eccetera, eccetera. Nel 2008 con la dottoressa Rina Brunini con l'ipnosi, vera e professionale a V maiuscola di Los Angeles Beverly Hills, dopo che ero stato per tanto tempo ipnotista autodidatta, avendo letto centinaia, centinaia, per non dire migliaia di libri sull'ipnosi e soprattutto quella conformista commerciale di Milton Erickson, De Bellman e Brian Weiss e aver provato tutto di più, noto che gli audio di ICS e la dottoressa Rina Brunini non hanno uguali. Salvano mio padre colpito da un ictus fulminante che lo ha paralizzato per la parte destra del suo corpo dove la medicina tradizionale non gli dava chance, speranze, tranne un liquido anticoagulante per non far peggiorare la situazione. E con la dottoressa Rina Brunini da Los Angeles Beverly Hills a più di 11.500 km di distanza su Skype online nel 2008, non oggi, dove tutti si riempiono la bocca di online, in 30 minuti Rocco alzati e cammina, mio padre si alza e cammina. Neanch'io, da stressato, nervoso, mi saltavo tre metri sulla sedia e ogni volta si presentava un problema, sono avesse una persona così calma, tranquilla, che i miei collaboratori o tantissimi collaboratori mi riconoscono più. E non significa diventare una mappamolla, ma essere come il miglior samurai, il miglior judoka, il miglior caldo, tranquillo, calmo, una mente lucida. Per così tu vuoi eliminare lo stress e trasformare questa energia negativa in un'energia positiva che ti fa camminare sulle acque, scaricati, quest'audio MP3 dicesse al titolo Non stress, molto molto controllo dei nervi e ti meraviglierà del potere della tua mente. Fammi tutte le domande del caso, visite il mio sito internet www.iprologiassociati.com la mia fanpage su Facebook, Ipronosi, avuti Ipronosi del dottore Claudio Saracino Iscriviti su questo canale YouTube, Benessere Ipronosi, Soluzioni di Cess, il dottore Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid, quella molla che ti può e gli può cambiare la vita e seguimi anche sui altri social, Instagram e Twitter Benessere Ipronosi, Soluzioni di Cess, il dottore Claudio Saracino Un bacio, un abbraccio amico mio, amica mia e alla prossima del dottore Claudio Saracino, alla tua, ciao